Si ripristinano le strisce padronali su Viale Trenacati, Viale Sant'Avologia e Viale Tica. Sono stato sempre sostenitore delle rotatorie agli incroci di Viale Trenacati e Viale Tica, i cosiddetti semafori intelligenti non avevano infatti determinato alcun sensibile miglioramento del traffico cittadino che era restato purtroppo caotico. Benvengano quindi queste rotatorie, ma allo stesso tempo si provveda subito, senza indugio alcuno al ripristino delle strisce padronali su Viale Trenacati, Viale Sant'Avologia e Viale Tica, visto che ora l'attraversamento della strada è più rischioso soprattutto per gli anziani e per i bambini e che le strisce padronali attualmente sono in pratica invisibili. Lo afferma Salvo Sorbello, presidente del progetto Famiglia Siracusa.